Ben trovati, proprio sabato il Premier Dabbari alla collega Maritota per la domanda che abbiamo ritenuto di rivolgerli a proposito della 275, ha detto si deve fare, pur se Cantone, il garante dell'ANAC, ha affermato settimane fa, proprio e sempre ai nostri microfoni, ormai è una strada inutile e troppi interessi particolari ci covano, anche a margine della dichiarazione della famosa dama nera. Ma scusatemi, io pongo un interrogativo al di là dell'incontro che vi è stato con l'ANAS nella giornata odierna, ma è possibile che quando accade qualcosa di controverso, addirittura anche arresti eccellenti e taggenti pagate, qui ancora nulla è successo perché è tutto bloccato a proposito della 275, dicevo quando accade qualcosa per il centro nord cosa si fa? Si commissaria perché non si possono bloccare le opere pubbliche, da noi invece si attendono anni e anni, si ritarda una crescita del territorio e poi addirittura si ipotizza la decapitazione di una gara d'appalto per un nuovo progetto ed una nuova eventuale gara per poter cantierizzare la 275 e la politica dorme da vent'anni, la politica ha mandato sempre solo comunicati stampa e la politica afferma di voler occupare la stanza dell'ANAS, ma vedremo come andrà a finire da qui alle prossime settimane quando si deciderà ufficialmente il futuro della gestione che porterà alla cantierizzazione della 275. Facciamo delle ipotesi, in caso di nuova gara innanzitutto significa che l'ANAS ha sbagliato tutto nella gestione della gara d'appalto e successiva poi aggiudicazione e deve pagare i costi di questi errori perché gli errori qualcuno li dovrà pagare per forza, non solo ai due gruppi che hanno perso tempo nella volontà di aggiudicarsi la cantierizzazione, ma anche alla regione Puglia e la regione Puglia dovrebbe pretendere questo gridando allo scandalo di una cattiva assicurazione da parte dell'ANAS di un diritto, quello di una strada importante come la 275 e poi l'ANAS nazionale deve completamente decapitare il comparto regionale perché da lì che anche si è innestata una serie di problematiche che ci hanno portato a questa situazione. Anche se poi dobbiamo fare un'altra valutazione che è legata al progetto che non è più quello iniziale ma è un progetto datato a 5, 6, 7 anni fa, ora non ricordo, ma non è di 20 anni fa. Per cui anche su questo vi è stato un errore grossolano nella gestione del tutto. Io spero e mi auguro che se per 20 anni alcuno dell'attuale gruppo dirigente sia stato preso in seria considerazione anche dai contendenti, i due gruppi che non vedevano un proprio riferimento leader politico con il quale sedersi e mettersi d'accordo su come poter comunque andare avanti nei lavori e questa è una garanzia di rappresentanza mancata non solo per noi ma anche per coloro che ambivano alla cantierizzazione della 275 e poi successivamente non far passare in secondo ordine quello che è un danno subito, un risarcimento che noi salentini e pugliesi dobbiamo pretendere da chi ha gestito in modo schifoso questi 20 anni che non hanno prodotto la nuova 275. A domani! Grazie!